Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti alla nostra sessione sull'inclusione digitale per una cittadinanza attiva. Sono Delfin Dall'Agata, del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ITC o ILO per essere più sintetici e oggi sono insieme a mio collega Tom Wanbeka, anche lui del ITC ILO, Emanuela Prina e Fabio Nascin Beni del European Training Foundation o ETF. Insieme siamo due enti internazionali qua sul territorio torinese e parleremo oggi di inclusione digitale per capire un po' chi ha sentito parlare di inclusione digitale. Magari alzate la mano. Dai direi abbastanza, quasi metà, quasi metà, che in realtà oggi sono 2,9 miliardi di persone che sono ancora disconnesse e oggi parleremo di come questa esclusione può avere anche un impatto sull'apprendimento e sulla formazione. Avremo tre punti di vista diversi e poi ampliremo anche la discussione assieme per continuare questa discussione in un modo collettivo. Quindi innanzitutto chiederei ai miei ospiti qua di presentarsi, di dire chi sono e di dare la loro definizione di inclusione digitale in 30 secondi. Dai, ladies first, Manuela vuoi iniziare? Buongiorno a tutti, io sono Manuela Prina della European Training Foundation e mi occupo in ITF di coordinare un gruppo di 20 esperti che lavorano fuori dall'Unione Europea. ITF ha un mandato esterno, quindi noi lavoriamo con i Balcani, l'Est Europa, il Nord Africa, il Caucaso e l'Asia Centrale. Questo è un po' il nostro bacino di utenza. Che cos'è per me, secondo me, la definizione di inclusione digitale? Molto semplicemente è la possibilità per tutti di arrivare ai propri obiettivi attraverso il supporto e attraverso gli strumenti del digitale. E quando si parla con una persona e si chiede stai arrivando ai tuoi obiettivi? E qualsiasi essi siano di natura, diciamo, privata, per essere parte di una comunità o per un apprendimento o per il lavoro, quando la risposta è sì, sicuramente siamo in una bolla di inclusione. Quando la risposta è no, c'è sempre qualcosa da mettere a posto. In genere la risposta nei nostri paesi è no. Grazie Emanuela. Fabio? Buongiorno anche da parte mia. Fabio Nascimbeni. Lavoro anch'io in ETF dove mi occupo, tra le altre cose, di transizione digitale e ho lavorato su questo tema per tanti anni in varie vesti. Quello che ho visto è che il problema non è cambiato. Quindi ci sono chiaramente dei miglioramenti per quanto riguarda il numero di apparati connessi, eccetera, ma appunto anche in luoghi insospettabili, Torino per esempio, ci sono grandi sacche di esclusione digitale. Quindi se non è cambiato il problema, un po' la nostra sfida, poi ne parleremo, è di cambiare un pochino il nostro approccio a questo problema. E se mi chiedete una definizione, secondo me, anche un po' in linea con quello che si sta discutendo qui alla biennale, parlare di inclusione digitale oggi non voglio dire che non ha più senso, ma significa parlare di inclusione sociale. Le due cose secondo me oggi si sovrappongono quasi completamente, nel senso che è difficile pensare a una persona esclusa digitalmente, anche per scelta, esistono anche gruppi di persone che per vari motivi non vogliono usare le tecnologie. È difficile pensare a queste persone come persone incluse socialmente, per non parlare di inclusione educativa, che è un po' quello di cui ci occupiamo all'ETF. Quindi la mia provocazione, come quelli che dicono non parliamo più di digitale, ma siamo in società in cui il digitale è talmente presente che non ha più senso parlarne, secondo me probabilmente dovremmo parlare di social inclusion attraverso il digitale, probabilmente. Quindi questa è un po' la suggestione. Grazie, grazie Fabio. E Tom? Grazie Delfino. Sono Tom Wambeke e lavoro, non vado a ripetere il lungo titolo, ma qui quando prendi il taxi a via il maestro di lavoro puoi dire andiamo al BIT e così arrivi subito a questo bellissimo campus lì vicino del posto, lavorando lì durante gli ultimi 15 anni, adesso con un team di anche una ventina di persone che sono completamente focalizzato sull'innovazione, l'innovazione dentro diciamo metodologia di formazione, però anche l'innovazione dentro tecnologie dell'innovazione e anche digital media e il design in cui anche lavora Delfin. Definizione molto difficile perché quando abbiamo cominciato con il lavoro insieme con l'ETF per arrivare a una definizione siamo arrivati a un libro completo, però il libro al punto che Fabio e anche Manuela ha menzionato, eravamo un po' sorprese su la riduzione del debattito di inclusione digital molto ridotto all'accesso all'infrastruttura e questo libro tramite esperti artisti, andiamo a spiegarlo un po' più avanti, concentrarsi alla multidimensionalità diciamo del topic che andiamo a discutere oggi non solo sull'accesso all'infrastruttura ma anche sul sociale, anche su skills, anche penso che abbiamo tutto un ecosistema di componenti che vogliamo elaborare con voi oggi in questa discussione. Grazie, grazie Tom. Adesso quando avete questi tre punti di vista sull'inclusione digitale la prima domanda in realtà l'abbiamo per voi, che cosa pensate del futuro della tecnologia legata alla formazione? Quindi se siete da questo lato che la tecnologia includerà chi oggi è escluso, magari alzate la mano. Cosa pensate? Posso chiedere magari un contributo, una riflessione dal pubblico? Cosa vuoi sapere? Perché credo che sia una grandissima opportunità e credo che i costi siano in riduzione costante e credo che l'accesso stia aumentando. Io poi tra l'altro lavoro su questo quindi ci credo. Grazie, grazie mille. E poi invece chi pensa che la tecnologia aumenterà il divario tra inclusi ed esclusi? Adesso sa già cosa sta per arrivare. No, io dico che potrebbe essere tutto positivo ma il divario aumenterà se le persone non vengono aiutate, vengono abbandonate con questi oggetti, queste potenzialità fantastiche che però non sanno usare. Grazie, grazie. Proprio come ha detto Tom all'inizio, a volte si parla solo dell'infrastruttura, però invece anche le competenze di come saper usare queste tecnologie è una parte molto fondamentale dell'inclusione digitale. Per dare forse un po' di contesto sul nostro lavoro inizia nel 2021 quando abbiamo ospitato il Digital Inclusion Summit. Questo, come ha detto Tom, era un evento che ha coinvolto esperti da vari settori per discutere questo tema. Aveva tre scopi, diciamo, che il primo era di co-creare una sorta di struttura su come l'inclusione digitale poteva essere integrato nella formazione e nell'educazione. Il secondo scopo era di prendere ispirazione e di scoprire nuovi progetti innovativi nel contesto globale. Quindi abbiamo coinvolto startup o ENG che stavano promuovendo questo lavoro attraverso i loro progetti. E l'ultimo scopo era di creare un gruppo di condivisione che oggi si sta anche espandendo, di continuare la discussione, di ampliarla, di complicarla per creare appunto questo gruppo futuro, cioè di lavoro magari in futuro. E questo summit ci ha portato a questa pubblicazione. Questa pubblicazione si chiama Da 4 a 42. Perché questo titolo? Perché partiamo da quattro macro temi che andremo tra poco a discutere e poi a 42 consigli che sono venuti fuori attraverso questo evento. Questo libro è stata anche una collaborazione con Poster Heroes, potete poi approfondire la nostra mostra a più dettagli nelle seguenti minuti. E poi ha anche vinto un premio di design, quindi dopo la sessione abbiamo anche dei libri per voi se siete interessati da portare a casa e continuare questa discussione. Quindi per iniziare chiederei a Fabio che prima del summit avevi approfondito questi quattro macro temi che erano la connettività digitale, l'alfabetizzazione digitale, i contenuti e i servizi digitali e l'inclusione radicale. Quindi potresti approfondire come questi quattro macro temi contribuiscono alla missione di lasciare nessuno indietro? Sì, allora, i tre temi sono i tre temi classici, quindi infrastrutture, accesso, se io non ho un buon accesso continuo, veloce, eccetera, è molto difficile pensare a pratiche di inclusione, le capacità, quindi l'alfabetizzazione che è un tema, ripeto, anche in Italia oggi esiste, nel gruppo Repubblica Digitale del Governo, per esempio già da anni un gruppo che lavora su questa cosa, non pensiamo sempre a noi privilegiati, pensiamo anche alla persona che parla poco italiano, parla poco inglese, quindi escluso da molti contenuti del web, pensiamo a persone con discapacità e quindi, diciamo, se pensiamo a tutte le frange dei possibili esclusi, e il tema dei servizi anche e i contenuti è un tema, diciamo, relativamente diretto, immediato, però è un tema dove si può fare molto. Questi sono i tre temi classici su cui abbiamo iniziato a lavorare, ovviamente sono tre temi connessi, questo è piuttosto ovvio, e sono tre temi, li abbiamo messi in quest'ordine, perché il primo tema è da almeno una ventina d'anni, forse di più, assolutamente al centro di tantissime iniziative, penso alle Nazioni Unite, penso alla International Telecommunication Union, sappiamo esattamente chi è connesso, dove è connesso, quali sono i problemi, eccetera. Ed è un tema che c'è chi dice in un qualche modo si risolverà, è anche una questione, diciamo, generazionale. Il tema della literacy è un tema invece che va esplorato, che stiamo esplorando, perché non stiamo parlando semplicemente di essere capaci di usare un social media, che mi può aiutare a restare in contatto con qualcuno, ma di sapere cosa c'è dietro, di avere una competenza critica, ovviamente, che non è la stessa cosa, quindi di passare dalla conoscenza, dalla capacità, a una comprensione davvero di quello che è l'ecosistema. E lì c'è molto da fare, questo è più o meno tutti quanti i ricercatori che lavorano su questo campo sono concordi. E alla fine il tema dei servizi contenuti. E lì il problema è che ogni volta che il mondo, diciamo, di chi lavora su questi temi, arriva a fare qualcosa, a proporre qualcosa per avere servizi più inclusivi. Faccio un esempio, pensando al sottotitolo di questa biennale Principles, esistono i Principles for Inclusive Design del web, e quindi in teoria oggi se uno vuole fare una pagina accessiva ci sono dei principi che tranquillamente io posso usare, spendo un po' di più, la pagina sarà forse un po' meno bella, ma sono sicuro che la gran parte delle persone, la grandissima parte delle persone potrà accedere. Molto bene, non siamo ancora lì, pochi li conoscono e anche chi li conosce non li applica sempre. Ma il problema lì è che, diciamo, la tecnologia avanza, quindi quando arriviamo ad avere questi principi abbiamo adesso il metaverso, abbiamo tutti, diciamo, degli altri tipi di servizi contenuti ed è un po' una rincorsa, come succede spesso quando parliamo di transizione digitale. E l'ultimo tema invece è un tema che è uscito dal Summit, perché al Summit, quello che tutti dicevano, abbiamo cercato di mischiare sia persone che lavorano in questo tema da tanti anni, quindi hanno una visione davvero storica, con persone che invece ci lavorano da poco e in modo molto puntuale. Un esempio su tutti, questo ragazzo messicano che ha sviluppato da solo un'app per salvaguardare il linguaggio, la lingua del suo paese, quindi un traduttore tra lo spagnolo e questa lingua náhuatl, l'ha sviluppato da solo, poi con tre persone nel suo villaggio e adesso ha una piccola comunità e i turisti vanno a vedere perché nel frattempo fanno cose. Ed è una persona, quindi si è inventato questa cosa perché lui era uno smanettoni, ha detto c'è un problema e do una mano. In realtà facendo parlare questi nuovi che non sanno bene qual è la storia del fenomeno e quelli invece un po' più agé come me e come altri che sono stati in tutti questi processi a volte anche un po' ripetitivi e un po' frustranti, sentire sempre le stesse cose, un po' si è detto bisogna forse avere un nuovo approccio, un approccio un pochino più radicale, cioè che non basta essere un po' più inclusivi. Proviamo a pensare di dire, per esempio, i Principles for Inclusive Design, proviamo a dire perché non li rendiamo obbligatori per tutti i software finanziati dalla Commissione Europea, per tutti i software finanziati dal governo italiano, eccetera. Quindi abbiamo provato a tenere fuori delle idee un po' più radicali che sono in parte in questo libro. E quindi diciamo dall'1, il 2 e il 3 siamo arrivati al 4, che è un modo diverso di guardare l'1, il 2 e il 3, quindi. E da lì hai 42 tips che sono ben scritti in modo anche, come dire, provocatorio nella pubblicazione. Grazie, grazie Fabio di averci spiegato un po' questo approccio radicale che è nato un po' esplorando questi tre temi iniziali e che si è poi espansi in un discorso più ampio che lega tutti e quattro assieme. E quindi adesso rivolgerei la parola al Tom, che al Summit dell'ITCILO abbiamo riunito più di 100 partecipanti e 90 esperti che venivano dalle Nazioni Unite, dalle università, dal settore privato, dalle ONG, per avere proprio questa prospettiva holistica dell'inclusione digitale. Quindi potresti spiegarci un po' cosa è successo dopo il Summit e adesso cosa succederà? Grazie Delfin. Sì, forse la domanda era prima anche il Summit, perché è un Summit? Fabio ha già detto che il tema non è nuovo e ci sono Summit conferenze ogni anno, ma abbiamo anche visto che molte organizzazioni stanno organizzando le loro proprie conferenze sul tema con un approccio molto specifico. Vediamo UNESCO ogni anno al Summit, ITU, anche una gestione delle Nazioni Unite, anche un focus molto specifico. Da lì abbiamo scoperto e anche identificato molto collegamenti mancanti nell'ambito dell'inclusione digitale. L'hai già detto, nella necessità di approccio più interdisciplinare. Lì i gruppi che hai identificato erano molte persone che quasi non si incontrano. È come poi avere un incontro tra il ragazzo messicano e un'agenzia che sta sviluppando politica sull'inclusione digitale. E questo è il secondo punto, che penso che abbiamo bisogno di un approccio molto più pragmatico, come tradurre la politica in pratica, come mettiamo il link tra le due cose. E finalmente, Delphine l'ha già detto, una visione più olistica, sistemica, che guarda molto al di là dell'accessibilità. E quelli sono i tre punti mancanti che penso che il Summit hanno confrontato. E anche il risultato non è un documento abstracto, ci sono i principi anche, però anche un documento che io lo chiamo anche pragmatico, perché non è solo teoria, ci sono practical tips, ci sono un po' di tutto. E la domanda adesso, ok, mi hai chiesto di che succederà adesso dopo il Summit, chi è stato ieri all'inaugurazione di Nassim Talit, è molto difficile prevedere che succederà, ma alcune cose abbiamo già fatto. È interessante perché quando rivediamo l'istoria di questo progetto, abbiamo cominciato con Fabio, penso che le prime dieci pagina, era un statement che si svolge nel Summit, il Summit è tradotto in un libro, il libro è stato tradotto in un art contest con più di 1200 posters, arrivando da 80 diversi paesi. E finalmente anche oggi possiamo lanciare un sito web, un sito web che comincia da una sfida per sensibilitare, che vuol dire essere escluso. Il sito web lo puoi anche provare qua nella mostra che abbiamo organizzato. Adesso che possiamo ancora fare? La prima ragione perché siamo qua è di nuovo anche cercare partners per vedere se possiamo fare qualcosa insieme. Essendo due organizzazioni internazionali abbiamo veramente anche l'idea o i nostri ligami a livello locale. E quello è di esplorare un po' che possiamo fare insieme se voi avete progetti in questo ambito. Così puoi essere ispirato da livello internazionale, ma viceversa, quello abbiamo sempre fatto, l'enchiere locale e internazionale. Speriamo anche a livello internazionale di lanciare laboratori di inclusione digitale. abbiamo già identificato quattro paesi in Africa con un partner olandese. Parlando con ITLEF, perché solo limitare a un continente, perché non fare un world tour? Non dico in 42 paesi, perché sarà un po' troppo difficile, però mai sai, questo progetto è anche cominciato di niente. Non abbiamo un approccio lineare per dire che è un approccio che io anche l'ho menzionato nel libro, che segue i principi della serendipità intenzionale. Abbiamo la stessa visione, lo che succederà, non lo sappiamo, il final outcome, però comunque andiamo avanti e non solo ad hoc con un evento o con una partecipazione biennale, però creare un momentum, creare anche questa comunità dietro il sito e vedere lo che possiamo realizzare in un anno. E invece questi 42 consigli, questi tips che hai menzionato, come possono contribuire a queste future azioni legate all'inclusione digitale? Sono 42, l'hai detto, non voglio dire perché 42, perché definitivamente il libro non è una risposta definitiva sull'universo dell'inclusione digitale, però sono 42 cose che puoi praticamente fare veramente concreto con la tua organizzazione, come individuale, e anche tradotto molto semplice, però sempre connesso con una visione, diciamo, generale. Se io devo scegliere, per esempio, non sono neanche sempre i tips, diciamo, tecnici, per niente. Per esempio il mio tip favorito, lo dico in inglese per tradurre un po' di problema, Focalizziamoci non tanto sui headset, quindi sui visori, che il gioco di parole non c'è in italiano, ma sulla mentalità, su un cambio di mentalità. E quello anche, vai a vedere nel libro, è piuttosto focalizzato sulla mentalità, invece che solo confrontando la tecnologia. E questo, secondo me, se possiamo creare questo, non solo momento, ma movimento anche, penso che sarà, e tradurre questi 42 tips, forse insieme con voi, 42 non è il fine, vogliamo avere una centinaia di tips basati sulla intelligenza collettiva che troviamo in eventi, in workshops, in laboratori, eccetera. Grazie, grazie Tom. Insomma, appunto, questa pubblicazione, questi incontri, servono a cambiare la mentalità per renderla più innovativa e non sempre dipendere dalla tecnologia, perché abbiamo un punto di forza di essere umani e di avere questa capacità di riflettere, di pensare in una maniera critica anche. Adesso, Manuela, stiamo parlando appunto dell'inclusione digitale nel contesto della formazione e so che l'ITF si occupa proprio di quello. E quale tipo di progetto ha il potenziale di trasformare e portare avanti l'agenda dell'inclusione digitale? Ok, parto un po', faccio un passo indietro e parto un po' da quello che vediamo che sono le grandi sfide, sfide che sono sicuramente a livello di Unione Europea, ma noi che lavoriamo fuori dall'Unione Europea e nei nostri paesi alcune di queste sfide sono molto amplificate. Diciamo che quando parliamo di inclusione digitale spesso le persone immediatamente pensano ai giovani, ai ragazzi, all'accesso, all'uso della tecnologia e del digitale all'interno dei percorsi di formazione. E già qui c'è una sfida grande, una sfida che credo che con il Covid tutti hanno sperimentato, che è quella della preparazione, del readiness del mondo della formazione della scuola a sfruttare a pieno il potenziale, ma anche a sviluppare le competenze digitali dei ragazzi. E qui è una prima sfida a cui si attaccano una serie di progetti. noi abbiamo tradotto questo progetto in un'iniziativa che si focalizza proprio sull'innovazione nei metodi pedagogici. E abbiamo iniziato una community di innovatori che è proprio dedicata agli insegnanti e ai formatori. Noi ci occupiamo tanto anche di formazione tecnica e formazione professionale e aperta a tutto il mondo. Quindi è una sfida soprattutto puoi fare dei cambiamenti di sistema. Voi immagino che abbiate in mente quello che è il percorso dell'Italia su questi temi. Chi ha figli che sono in età scolare o nipoti sa che davvero deve andarti bene ancora e questo è già un fattore di esclusione. Non puoi mandare un ragazzo a scuola e dire speriamo che gli vada bene che trovi gli insegnanti giusti. Questo è una cosa che assolutamente va cambiata. Nei nostri paesi è ancora tanto così. Ci sono tantissime esperienze meravigliose ma non siamo ancora lì a livello di cambio di mentalità. Poi abbiamo una seconda sfida che io chiamo la sfida degli adulti. E voi sapete che in Europa abbiamo questo target per il 2030 di avere il 60% degli adulti che ogni anno sono coinvolti in percorsi di formazione. Il problema è l'urgenza ed è un'urgenza anche legata proprio alle competenze digitali non solo attaccata al mondo del lavoro ma anche in relazione ad essere cittadini attivi e che possono partecipare alla vita della società civile. Perché è un'emergenza non è solo un'emergenza in Europa nei nostri paesi noi non abbiamo neanche dati su quanti adulti partecipano a corsi di formazione sappiamo abbiamo fatto recentemente un sondaggio insieme a Eurofound che è un'altra agenzia europea che nei nostri paesi sono pochissimi i lavoratori che hanno un supporto o dal datore di lavoro o dallo Stato per accedere a formazione e questo è un altro fattore enorme di esclusione ma il problema più grande del coinvolgimento e dell'inclusione degli adulti dentro la potenzialità del digitale sia come uso quindi come competenze digitali ma anche come accesso ad opportunità è che gli adulti non hanno voglia non sono engaged quindi il nostro problema più grande è proprio stimolare e creare lo spazio il tempo per le persone per essere sempre dentro un processo di lifelong learning e questo io credo che ognuno può fare una riflessione su di sé trovare il tempo non solo per fare formazione ma anche per riflettere dire va bene queste cose che ho visto oggi come le traduco in qualcosa che ha valore per me è una sfida e questa è sicuramente una sfida che ci porterà a inclusione o esclusione in base a come metteremo in atto alcuni progetti quindi noi ci stiamo concentrando tanto anche su questo problema lavorando sia con gli enti ad esempio gli uffici per il lavoro nei nostri paesi piuttosto che le camere di commercio le associazioni di impresa proprio per focalizzarci anche sull'adulto sia nel mondo del lavoro sia per chi invece non è dentro il mondo di lavoro e vuole andarci e questo mi porta a una terza sfida che è una sfida ancora di inclusione e esclusione che sono i giovani che non sono né in educazione né nel mondo del lavoro e in Europa l'Italia è fanalino di coda siamo quelli messi peggio con oltre il 20% di giovani che non sono né nel mondo del lavoro né nel mondo della formazione nei paesi fuori dall'Unione Europea in alcuni paesi questo dato è davvero catastrofico e questo è un altro fattore di esclusione che assolutamente richiede attenzione di nuovo sia a livello di competenze da una parte sia a livello di potenzialità degli strumenti digitali per rendere questo questo dato che poi è un dato che vuol dire persone parte di una società attiva e produttiva e anche su questo ITF si sta concentrando molto e devo dire che se guardo indietro a dieci anni fa quello che facevamo quando parlavamo di skills development o comunque di formazione oggi siamo in una complessità di progettazione di diversificazione anche degli attori che fanno parte di questo di risolvere questo problema quindi la multidisciplinarità ma anche la complessità proprio del lavoro insieme e questo richiede nuove competenze mi piace dire che non è da tutti lavorare insieme così però questo è il modo in cui possiamo rispondere a queste sfide per il futuro sia nelle nostre scuole nelle nostre città e anche a livello internazionale grazie grazie Emanuela di aver presentato queste sfide so che è venuto in mente qualcosa a Fabio aggiungo una cosa appunto per ragionare sul nuovo approccio l'approccio radicale se pensiamo ai needs quindi ai giovani o non giovani che non sono che non lavorano e non studiano che appunto in alcuni paesi sono intorno all'Europa sono ben molti di più che da noi in realtà queste persone si ritengono incluse digitalmente hanno il cellulare sanno fare tutto alcuni giocano con scratch programmano fanno quindi non è che sono parte di quegli esclusi digitali di dieci anni fa di vent'anni fa che pensiamo alla persona che ha difficoltà ad accedere alla banca online magari non hanno una banca online perché hanno altri problemi però e quindi il problema è in questo caso e torniamo alla literacy a quella literacy che serve è spiegargli che cosa possono fare con i digitali non semplicemente diciamo insegnargli a usarlo e poi un'altra cosa pensando a Tom al discorso della serendipity noi continuamente cerchiamo di scovare nuove idee ne abbiamo fatto con Huawei con un gruppo Manuela ha coordinato questo gruppo erano giovani ragazze come dire leader young leader talent qualcosa quindi giovani ragazze che hanno ragionato sul tema del digitale per uscirsene con una raccomandazione un'idea per la commissione europea su tutti i temi sono riunite varie volte hanno fatto un sacco di ragionamenti e io alla fine aspettavo per un altro prodotto che stiamo producendo che cosa esce da questa cosa gli chiedevo un tema una roba perché sennò si continua a parlare di tutto è uscito un tema che mi ha sorpreso tantissimo che è il tema del benessere psicologico di giovani e adulti quindi queste ragazze con fra l'altro dei ragionamenti bellissimi un sacco di ricerche eccetera sono uscite con un tema che è vero il covid ha fatto soffrire tutti tutto quanto però oggi io penserei ad altre cose invece il tema chiave fra l'altro con un sacco di idee di raccomandazioni per i policy makers europei è stato quello e anche lì è un tema su cui puoi lavorare tanto che è uscito spontaneamente da questo un'altra sorpresa diciamo sempre per ragionare sul fatto che forse il tema guardati in modo diverso è fonte di tante nuove idee certo mi fa pensare anche che la tecnologia il mondo digitale può anche avere un lato molto tossico quando si parla di salute mentale e che tutti abbiamo anche questa capacità di disconnettersi che è anche non solo di sempre approfondire e sostenere appunto serve per la formazione per il lato sociale però abbiamo anche il lato la possibilità di dire no basta adesso sto raggiungendo il mio limite è anche importante soprattutto per i giovani quindi grazie di queste tre prospettive iniziali diciamo e adesso invitiamo se qualcuno ha una domanda o una riflessione dopo aver sentito questo vi diamo anche la parola prego grazie grazie mi chiedo se ah ja scusate Davide Tosco sono non lo so cosa so produzo contenuti per la radio e la televisione e sono anche coinvolto in progetti europei per il risultato di risolvere accesso perché non conoscono l'esistenza e questo credo che sia spesso una questione abbastanza poi vengono tutti i temi di quanto queste risorse sono effettivamente accessibili anche proprio a livello di linguaggio a livello di come strumenti diciamo però forse è una componente inclusa nel terzo digital service and content ma allo stesso tempo mi sembra una componente così fondamentale e mi chiedevo quali erano le vostre riflessioni rispetto a comunicare l'esistenza di qualcosa in termini proprio di accessibilità cognitiva diciamo così grazie Manuela grazie rispondo intanto con una dei tips che secondo me mi è venuta in mente mentre parlava che è the user experience is the only experience e secondo me questo per noi a livello di organizzazioni internazionali e diciamo produttori di sapere ma anche penso a livello di accademia è una questione di cultural change allora racconto la mia esperienza personale quando ho preso in mano questo team meraviglioso di persone davvero di eccellenza che però sono abituati ad avere degli incentivi legati al numero di pubblicazioni e di pagine pubblicate con persone che mi dicevano il mio lavoro è finito quando la pubblicazione è pubblicata e passare da lì a dire no il tuo lavoro lì inizia perché poi questo sapere va tradotto e va mangiato da qualcuno è un cambiamento culturale enorme e l'altro giorno eravamo proprio in una riunione non so se hai sentito questo commento eravamo in una riunione di staff e c'è stato uno staff che diceva quest'anno abbiamo fatto solo sei pubblicazioni che per me è una vittoria perché non abbiamo fatto pubblicazioni abbiamo fatto altre abbiamo fatto mostre abbiamo fatto dei bellissimi prodotti interattivi con cui andiamo a giocare tra virgolette anche con persone di ministeri per fargli prendere decisioni e andare avanti e proprio questo spostamento del user experience quindi dire a cosa chi deve usare questo sapere è un cambiamento enorme per chi produce sapere ed è una sfida una sfida credo importantissima per noi sicuramente però io penso anche per l'accademia e per tutti coloro che hanno in mano soluzioni che però non sono poi shared nel mondo giusto c'è anche un pericolo perché spesso andiamo con un framework già stabilito a una realità che non vediamo qualche cosa diciamo per noi ha aiutato molto l'aspetto che lavoriamo globalmente per esempio adesso stiamo lavorando in Zimbabwe dove abbiamo creato un centro di formazione per laboratori domestiche e lì mi raccordo la prima volta che siamo andati lì per vedere c'è la banda dice dobbiamo avere un elemento di trasformazione digitale quello era già una requisite e lì parlando come lei ha detto sul user experience facendo tutti questi empathy maps abbiamo trovato soluzioni che neanche abbiamo mai pensato che non erano quasi un po' fuori il framework che abbiamo trovato e non aveva niente da fare con il digitale classico lì abbiamo lavorato con community radio abbiamo lavorato con cellulari e fatto una combinazione abbastanza bizarre entre social media cellulari e radio community che non abbiamo mai pensato il pericolo è spesso che andiamo lì già con un framework con metodologie con tools a implementare qualcosa che forse non hanno bisogno e quello è tornare diciamo tutto l'approccio di andare completamente vuoto con un mindset aperto e vedere dove la serendipità non solo serendipità perché troviamo sempre un approccio abbastanza metodologico in quello che sviluppiamo però l'aspetto globale hanno aiutato anche di pensare un po' più diversamente su una cosa che è quasi un diciamo un linguaggio molto uniforme in questa discussione che è molto prevedibile anche secondo me come dicevi il punto è chiave e ti rispondo con una domanda provocatoria una domanda per tutti quando è l'ultima volta che avete visto su un giornale una pubblicità di un corso per sviluppare skills digitali sapete quando l'ho visto io questa mattina sulla stampa giuro ed è una pubblicità a mezza pagina di google google digital skills che ti insegna ovviamente la digital literacy dal punto di vista di google totalmente legittimo bravi hanno pagato l'organizzazione eccetera il problema è a livello per esempio d'Italia esistono un sacco di corsi gratuiti finanziati dal governo eccetera su questo tema migliori o peggiori non lo so questo è un altro discorso però non sono visibili quindi c'è chiaramente un tema lì e c'è un tema come diciamo sempre diciamo dove non si spinge il pubblico o comunque il no profit arriva il profit è normale quindi funziona così però questa mattina mi ha sconvolto vedere mezza pagina una ragazza con un computer che dice ho migliorato le mie skills digitali grazie a google quindi il punto è chiave ed è super attuale questa mattina sì no infatti quello che anche diceva Tom prima l'esperienza della comunicazione parte tanto dall'utente come diceva anche Emanuela è l'importanza anche di capire già quali canali funzionano per loro quali sono i canali che funzionano in Zimbabwe era la radio era un posto fondamentale un canale anche di formazione attraverso delle pillole di apprendimento sulla radio quindi è importante capire entrare proprio empatizzare con il pubblico con l'utente finale per poter poi creare prodotti di comunicazione che sono mirate a queste persone grazie altre domande sì arrivo no grazie scusate io ho fatto faccio una domanda che adesso non c'entra forse moltissimo ma che ho sempre voluto fare l'ETC e l'ILO sono un posto che conosco benissimo so dov'è da Torinese eccetera voi lavorate però completamente con con l'estero cioè siete qui ma siete altrove e se così è insomma avete un'impressione di Torino cioè Torino è ci sono delle oltre al Politecnico ci sono tante cose che funzionano in questo campo oppure siamo indietro al Medioevo così un'impressione cioè tutti insomma si sente dire che siamo un po' mondi separati no? la città e voi adesso se non c'entra niente questa domanda come se non l'avessi fatta no intento di connetterlo con il con il tema però sì quando sono arrivato anche qua l'ho trovato un po' una isola lì c'era sì un giorno un giorno di apertura per il pubblico qualcosa però quello ha cambiato devo dire onestamente e soprattutto tramite Covid perché quando succede con Covid normalmente ci sono diciamo 15.000 persone da tutto il mondo che arrivano qua a Torino per seguire un corso un master una settimana due settimane nel passato quando parla di anni 70-80 c'erano persone di paesi in sviluppo che arrivavano qua per fare un corso di sei mesi sulla formazione professionale diciamo ha cambiato molto e quando Covid è arrivato quando il campus era vuoto praticamente durante due anni perché era impossibile di viaggiare la riflessione è stata molto più come possiamo connettere di più diciamo con entità locale regionale e nazionale e da lì per esempio per dare un esempio abbiamo cominciato un progetto grande con la fondazione per la scuola anche connesso con questo tema abbiamo per esempio formato adesso solo 100 dirigenti delle scuole che anche hanno avuto le sfide enorme quando Covid è arrivato come affrontiamo sul livello diciamo istituzionale su una scuola come formare i formatori o i professori e quello è solo un esempio della connessione i partnership sul livello regionale locale stanno crescendo anche è molto interessante perché quando lavoriamo su progetti lavoriamo anche molto spesso con survey providers che sono qua sono per esempio consulenti specialisti del territorio qui ho trovato un grande expertise in qualche area per esempio digital platforms che lavoriamo spesso penso che il piattaforma che abbiamo lanciato su digital inclusion è un'azienda di Torino per quello c'è molta collaborazione però forse ancora un po' invisibile in questo senso e il nostro diciamo direttore si rende conto che questo lo dobbiamo forse ho avuto una discussione molto interessante con il presidente Profumo dell'intesa San Paolo anche lì in questa area era lui che ha detto vai a lavorare con fondazione per la scuola solo un esempio abbiamo per esempio una collaborazione sistematica con la università perché ci sono sei masters con studenti di tutto il mondo però sono con professori qua dell'università e incluso anche del Politecnico però solo per dire soprattutto su questo tema penso che c'è potenziale di più per fare più cose anche questa è la ragione perché siamo oggi qua e allora do un altro stimolo in questo senso sono Antonio Maspoli e lavoro per un progetto che si chiama Digitol che praticamente include moltissime delle questioni che dite lavoro per l'ufficio Pio della Compagnia di San Paolo che si occupa di povertà quindi si occupa di inclusione sociale e non a caso da un anno e mezzo ci occupiamo di inclusione digitale proprio per le ragioni che Fabio citava noi siamo partiti e partiamo da quello che le persone usano quindi partiamo dal cellulare facciamo della formazione molto breve ci rivolgiamo a persone che hanno un ISEE sotto gli 8400 euro quindi persone come dire che sono a Torino ma che rappresentano una quota di esclusione sociale rilevante in gran parte sono donne 80% in gran parte sono di origine straniera ne abbiamo coinvolte per il momento 500 abbiamo finito adesso un bando mi dispiace che non hai visto il nostro bando abbiamo messo i manifesti per Torino Digitol e ne entrano adesso altri 500 quindi vorremmo farne entrare mille all'anno ci piacerebbe molto collaborare anche con voi perché per il momento noi siamo un po' dei neofiti quindi facciamo sì formazione per fare formazione ci appoggiamo a degli esperti sono poi 16 ore di formazione quello che io trovo molto interessante dal mio punto di vista è che all'inizio le persone non hanno la consapevolezza di averne necessità noi diamo qualche incentivo nel senso che forniamo un tablet e forniamo la connessione sostenibile per cioè 8 euro al mese che per un anno paghiamo noi alle persone quindi c'è un incentivo e diamo la formazione che è poi quella di inclusione digitale la formazione di base quello che per me è molto interessante è che sulle 500 persone che abbiamo formato con questo corso breve 100 hanno chiesto di continuare a essere formate e non è pochissimo per noi è un ottimo risultato e niente quindi visto che l'avete detto più volte cerchiamo di capire cosa c'è sul territorio noi sul territorio ci siamo lavoriamo a Torino e lavoriamo con appunto tutte queste persone qua grazie 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 teniamo il nome in mente in futuro dopo si si approfondiamo grazie interessante noi abbiamo fatto tra le altre cose non l'abbiamo citata pochi mesi fa a Bruxelles abbiamo partecipato con un evento di discussione a quelli che la commissione chiama European Development Days quindi chiamano tutti quelli che lavorano in programmi di sviluppo e abbiamo parlato di queste cose immaginate una sala come questa con un sacco di persone che discutevano fra l'altro con le cartoline abbiamo fatto scrivere e lavorare l'abbiamo fatta assieme a una ONG francese che lavora in Francia e in tantissimi paesi francofoni dispersi per il mondo e la cosa interessantissima infatti mi è venuta in mente pensando all'ISEE quello che mi diceva è se io devo pensare a chi portare ti ricordi devo portare dei testimonials di esclusioni i primi che mi vengono in mente sono francesi non sono Comores, Madagascar paesi dove l'ISEE non esiste perché comunque sono qui perché sono vittime sono parte di dinamiche di esclusione sociale quindi hanno questa percezione negli altri paesi questa cosa sta arrivando quindi è molto interessante sicuramente diciamo partire da Torino o da altre zone che sono percepite come non difficili è ottimo cioè partire coinvolgere certamente assolutamente sì arrivo grazie io sono Sara Monaci sono un docente del Politecnico mi occupo faccio parte di un piccolo gruppo di scienziati sociali qui in questa scuola di ingegneria e abbiamo anche un progetto a livello dipartimentale sul tema dell'inclusione esclusione digitale con una ricerca sul campo fatta diciamo in periodo covid con analisi di dati e anche interviste qualitative soprattutto sulle condizioni diciamo di donne fragili l'utilizzo di strumenti digitali eccetera quindi magari mi fa piacere poi approfondire con voi i possibili collaborazioni no quello che invece volevo chiedere insomma visto che tu prima insomma hai poi accenato la questione cioè se ci sono insomma nelle vostre organizzazioni e nelle iniziative che avete avviato sinergie o che tipo di collaborazione invece con le piattaforme che hanno come dire no in quanto player dominanti un sacco di iniziative loro sul tema dell'inclusione eccetera insomma allora mi chiedo nel vostro quadro nella vostra strategia insomma attuali o future se ci sono come dire no delle forme di collaborazione di perché è un ambito che non si può insomma no disconoscere insomma no e non penso soltanto ai social che sono come dire a volte no ti senti incluso digitale sì sono su facebook quindi come dire no però sì il tema delle piattaforme è un altro tema chiave sembriamo proprio siete fantastici nel senso che io lo vedo così c'erano due tipi di piattaforme le piattaforme molto difficili da coinvolgere penso a facebook e google che per esempio non vanno non si può dire credo non vanno alle riunioni indette dalla commissione europea a bruxelles sul tema inclusione non ci vanno ora una persona a bruxelles e quel giorno non può andare sono adesso sto generalizzando però sono diciamo resistenti hanno la loro strategia e fanno il loro e lo fanno ripeto bene perché questi corsi di google piuttosto che tutto il tema di digital literacy di facebook sono assolutamente ben fatti e poi ci sono tutte le piattaforme invece del mondo no profit penso a mozilla penso a moodle queste qua che hanno invece un approccio completamente diverso e che sono affamate di questo tipo di cose perché loro hanno diciamo hanno fatto una scelta continuano a fare scelte di un certo tipo e ogni volta avevamo credo qualcuno di moodle al summit ogni volta che possono parlarne e possono imparare sono disponibili quindi non voglio fare buoni e cattivi no perché poi c'è tutto il discorso di fuoriusciti dalle piattaforme diciamo dalle Silicon Valley e quello che stanno facendo quindi è il discorso più complesso però diciamo secondo me ci sono piattaforme con le quali è molto difficile lavorare è veramente difficile e piattaforme che invece che sono quelle che più o meno vengono poi promosse anche semplicemente perché usano software aperti che è una difficile dire sì o no che sono invece totalmente disponibili però sì non saprei come fare per coinvolgere le altre noi anche sulle piattaforme abbiamo anche uno dei tips un approccio molto open source in questo e le collaborazioni che facciamo con diversità anche università e piuttosto cominciare come abbiamo fatto con ITEV abbiamo un'idea un concetto l'abbiamo trasformato in un concetto di due o tre pagine e dopo cercando dove possiamo mobilizzare risorse diciamo non solo risorse finanziarie ma era tutta una strategia intorno di questo per pragmaticamente realizzarlo tutto lo che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in meno di due anni perché c'era parte della nostra strategia comune parte delle risorse che abbiamo anche mobilizzato insieme quello noi lo vediamo abbastanza pragmatico però rispettando qualche principi diciamo che anche puoi trovare qua open source non vuoi dire che abbiamo una preferenza per Moodle o qualsiasi altra cosa ma piuttosto vogliamo investire non nella tecnologia ma piuttosto nella capacità di persone per lavorare con questa piattaforma e altri ingredienti anche possiamo discutere dopo grazie abbiamo ancora qualche minuto se qualcuno ha qualche domanda o riflessione in più sì grazie grazie volevo solo aggiungere sul piatto delle esperienze una cosa in più io sono Monica Casetta di Arci Servizio Civile un altro tassello in più che è partito con i primi progetti il maggio scorso è tutto quello del Servizio Civile Digitale che è stato un po' messo sul campo dal Dipartimento del Servizio Civile della Transizione Digitale e che un po' si è mosso su due rami diciamo da un lato quello della formazione quindi tutto il tema dell'accessibilità è legato molto a un focus su quelle che sono diciamo dei target fragili in particolare i NIT che sono stati già citati gli anziani e poi un focus sulle persone con background migratorio quindi una parte su questo su questo settore qua e l'altra invece sugli sportelli quindi più sullo sportello territoriale e sono partiti molti progetti su tutta Italia a maggio ne partiranno altri tra fine inizio anno e un secondo me un grosso potenziale da un lato dall'altro c'è un po' secondo me un limite ma anche un'opportunità che è un po' quella che poi è lasciato molto agli enti ai territori quello di capire effettivamente come utilizzare queste risorse che sono in particolare ragazzi e ragazze che portano la loro esperienza la loro voglia per mettersi in campo su questo c'è un sistema diciamo di formazione nazionale gestito anche dal dipartimento per uniformare un po' la formazione che viene data a tutti questi tantissimi volontari però poi insomma sono poi i territori e gli enti di terzo settore o enti locali che hanno poi queste risorse che come dire trasformano in concreto quello che poi insomma sarà e si farà e quindi insomma questo è un tassello in più insomma che volevo portare grazie 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 mille a quelli che hanno anche condiviso il loro progetto vi invitiamo di continuare la discussione abbiamo questa piattaforma di condivisione se volete scannerizzare il QR code o mettere questo URL potete accedere a questa piattaforma dove abbiamo messo le risorse alcune pubblicazioni la versione digitale di questo libro ma anche uno spazio per conoscersi condividere per presentarvi e ampliare sempre di più questo gruppo di condivisione dovrebbe essere accessibile solo con la mail e poi vi riceverete l'invito alla piattaforma via mail e quindi invitiamo anche di girare l'angolo nel corridoio che abbiamo nove poster in mostra sempre legati al tema dell'inclusione digitale fatti qua a Torino con il print club toolbox con la gara di poster heroes e anche di fare la sfida abbiamo dei computer con quattro sfide legate all'inclusion digitale per vedere se potete empatizzare con quelli che sono esclusi e poi infine se volete passare e prendere anche una pubblicazione ci fa piacere condividere questo lavoro quindi grazie ancora di essere venuti e speriamo di rivederci presto grazie grazie grazie